Questa notte alle 23 ora locale, 18 miglia ad ovest del battello faro di Nantucket, la turbonave italiana Andrea Doria è stata speronata sul lato dritto dalla motorave Stockholm di bandiera svedese. I passeggeri e il personale di bordo sono in salvo sulle navi soccorretrici. Dopo un'agonia durata 11 ore alle 10.09 di oggi la nave è affondata. Dopo la benedizione impartita dal vescovo di Genova, la madrina, signora Saraga, abbassa l'aceta sul nastro azzurro, si frange la bottiglia e la nave comincia a scivolare verso la sua vita. Lunga 214 metri e larga 27, l'Andrea Doria stazzava quasi 30.000 tonnellate, con 11 ponti e 12 compartimenti stagni. Costruita nei cantieri Ansaldo di Genova, era ritenuta la nave più bella, elegante e moderna di quegli anni. Aria condizionata in tutte le cabine, piscine in ciascuna delle tre classi, tecnologia di primo ordine. Vantava due radar modernissimi e persino un Loran, strumento all'avanguardia per l'epoca, che indicava rotta e posizione della nave con certezza quasi assoluta. Alla tecnologia moderna si sommavano gusto ed eleganza italiani. Per l'allestimento dei lussuosi interni erano stati spesi ben due miliardi di lire dell'epoca. Mobili moderni, dipinti di Salvatore Fiume, una statua a grandezza naturale del celebre ammiraglio che dava il nome alla nave. Al suo primo arriva a New York e l'Andrea Doria riceve un benvenuto entusiastico, anche da parte del sindaco della città, accolto a bordo dal comandante Calamai. La nave divenne insomma il miglior ambasciatore nel mondo della rinata capacità industriale e creativa dell'Italia, uscita a pezzi dalla guerra. Sull'oceano, quella notte di 50 anni fa, stavano per scontrarsi due navi profondamente diverse e non soltanto a causa della differenza di tecnologia e modernità dell'Andrea Doria rispetto alla Stockholm. Sulla nave italiana, con i suoi ufficiali, c'era in plancia il comandante Piero Calamai, un lupo di mare, come si diceva un tempo, con 40 anni di navigazione sulle spalle e una medaglia della marina militare sul petto. Sulla Stockholm invece, l'esperto comandante Nordenson aveva lasciato solo al comando il giovane terzo ufficiale Johan Carsten Johansen, quadiuato da tre marinari. Una decisione che doveva rivelarsi fatale. Che cosa accadde esattamente quella notte di 50 anni fa a Nantucket, davanti a New York? Non è facile riassumere una tragedia del mare. Erano quasi le 11 di sera del 25 luglio del 56. L'Andrea Doria, vanto della nuova marina commerciale italiana, navigava diretta a New York. Vi sarebbe arrivata al mattino successivo. L'orchestra di bordo suonava a rivederci Roma, molti ballavano. Nella direzione opposta, su una rotta diversa da quella consigliata a chi va in Europa, proveniva la nave svedese Stockholm. L'Andrea Doria procedeva a una velocità forse troppo elevata per le condizioni di fitta nebbia di quella sera. Quasi 22 nodi, 40 chilometri all'ora. La Stockholm viaggiava a 18 nodi. Gli ufficiali delle due navi si avvistano reciprocamente sui propri radar. Valutano che si incroceranno a una distanza di sicurezza. A un certo punto però, non lontano dall'isola di Nantucket, i due comandanti si accorgono con sorpresa che qualcosa non va. La Stockholm vira violentemente sulla propria dritta, a destra cioè, aspettandosi dirà poi il comandante che l'Andrea Doria faccia altrettanto. Il comandante italiano invece, nel tentativo di evitare la collisione imminente, vira a sinistra. Ma una nave è molto più lenta di un'automobile. Per soli 12 secondi l'Andrea Doria non riesce a evitare l'impatto. L'urto è terribile. La prua d'acciaio antighiacci della nave svedese squarcia la fiancata destra della Doria fino a Poppa. La prua della Stockholm si accartoccia come latta. 48 persone muoiono nell'impatto, altre tre successivamente. 11 ore più tardi, dopo che centinaia di vite sono state salvate con la più prodigiosa operazione navale della storia, l'Andrea Doria affonda. La Stockholm naviga lentamente fino a New York. Sulla Stockholm era montato un vecchio radar privo di illuminazione. Per distinguere bene bisognava utilizzare una torcia. Lo schermo era suddiviso in 5 anelli concentrici. Se veniva utilizzata la scala delle 5 miglia, ad ogni anello corrispondeva un miglio di distanza. Se veniva invece commutata la scala delle 15 miglia, ad ogni anello corrispondevano 5 miglia. Carstens localizzò per la prima volta il segnale dell'Andrea Doria, convinto com'era di utilizzare la scala a 15. Stimò la distanza della nave a 12 miglia, circa 22 km. In realtà stava sulla scala 5 e dunque la distanza reale era di sole 4 miglia, meno di 7,5 km. Alle 23.05 Carstens considerò la Doria ancora lontana 10 miglia, ma non capì né la posizione nella direzione. Solo 3 minuti più tardi si accorse che la nave era già a 6 miglia. Si meravigliò della sua velocità eccessiva e distinto, virò bruscamente a destra per evitare il pericolo. Non si era accorto che il radar si trovava su una scala diversa e che la Doria era ormai troppo vicina. Ho giocortato in America i miei figli per cose, erano reti, avevano 5 figli, mio marito è morto in guerra. Angela Moscatiello, sopravvissuta a naufragio, ha già compiuto 97 anni. Viva ad Albany, la capitale dello Stato di New York e non ha mai abbandonato le abitudini di quando viveva la Cervinara Avellino, come quella del pane fatto in casa. Era imbarcata con due dei suoi figli. Giuquartutto che Andrea Doria, mi pensava che faceva un buon viaggio, e ti avrei, e mi ho dato disgrazi. La nave, si è incontrata con la nave, con il mio figlio, e mi ha preso sopra, mi ha portato sopra la nave, dove stava un vuoto. Mentre stava là, tutta la gente che hanno corruto, tutti piangevano, correvano, una moina. La nave si è mettuta sotto e sopra, stava mezzo in acqua, mezzo all'estero. Diceva che hanno pagato il funo, hanno manuto, che ce l'hanno manato alla funa. Io ho messo in sopravola e mi prendo vicino alla funa, e giù gli ho chiamato i miei figli. Ma faceva, primo figlio mio, venite giù, venite giù. No, mi è nato prima voi, mi è nato prima voi. Allora si è manato prima. Poi stavo piccolino e non mi è nato prima voi. Ho detto, no, mi è nato prima voi, perché tu sei piccolino, non mi è nato prima voi. E giù ti è salito alla ringhiera e si è manato giù. E giù ti è giù e si è abbiata a navicella e sono andata. E giù è rimasta, giù rimasta guardando. Sono arrivata alla sala di riunione in caso di pericolo perché dopo la partenza da Napoli ci hanno fatto una prova di come fare in caso di pericolo, eccetera. Allora io sapevo che lì si doveva andare e così obedientemente sono andata proprio lì. Attenzione, attenzione, a luogo l'esercitazione di emergenza. Se tutti i sopravvissuti alla collisione riuscirono a salvarsi, ciò si deve anche alla esercitazione di salvataggio da poco effettuata e naturalmente all'organizzazione dei soccorsi, coordinati dal primo ufficiale Luigi Oneto. Quello delle persone imbarcate sull'Andrea Doria è stato definito il più grande e riuscito salvataggio in mare nella storia della marineria. Sulla nave si trovavano 1134 passeggeri e 572 membri d'equipaggio. Tutti coloro che sopravvissero alla collisione furono tratti in salvo. Alla richiesta di soccorso lanciata via radio risposero ben 5 navi oltre alla stessa Stockholm. L'Andrea Doria disponeva di un numero di scialuppe sufficiente per una evacuazione completa. Ma purtroppo il forte sbandamento per le stive allagate bloccò sugli scivoli tutte le scialuppe del lato sinistro e le otto di destra non poterono essere calate con i passeggeri a bordo come previsto. Malgrado ciò l'equipaggio dell'Andrea Doria salvò quasi 1200 persone delle 1700 imbarcate. Le altre furono recuperate dai marinai delle altre navi. Le prime ad accorrere furono le sette scialuppe a motore della Stockholm che trasbordarono poi i naufraghi anche sull'Ide de France. Avevano messo una rete per merci lungo la fiancata così quando siamo arrivati ne abbiamo legato le estremità in modo che la gente potesse camminarci sopra fino alla nostra scialuppa. I nostri marinai si sono tuffati per recuperare la gente in acqua. Molti gridavano dalla paura ma non era strano perché la nave poteva affondare da un momento all'altro e io volevo salvare più gente possibile. Alcuni bambini piccoli li abbiamo presi con delle coperte tenute per gli angoli. L'Andrea Doria era completamente illuminata. I veri eroi di quel salvataggio furono gli uomini della sala macchina. Dobbiamo immaginarli laggiù con l'impericolo che la nave affondi da un momento all'altro. L'olio che spruzza da tutte le parti scottandoli. E' scritto tutto qui nelle memorie che l'ufficiale di macchina Luigi Pazzaglia mi ha lasciato prima di morire. Quegli uomini hanno mantenuto a galla il Doria per 11 ore e soprattutto lo hanno mantenuto a galla con tutte le luci accese. Io non oso pensare a che cosa sarebbe successo, a quanti morti ci sarebbero stati se quelle luci fossero restate spente. Se la tragedia di quella notte a Nentacete non assunse proporzioni maggiori si deve soprattutto all'intervento dell'Ile de France. Ricevuto l'SOS, il maestoso transatlantico francese diretto in Europa invertì la rutta. Dopo tre ore a tutta forza era sul punto del disastro. Si accostò vicinissimo all'Andrea Doria con una manovra ardita ma perfetta. Questo grande grande bastimento che era tutto illuminato davanti a noi che sembrò un miracolo vederlo proprio. In quel momento abbiamo avuto perlomeno una certa speranza e certezza di essere salvati. Sull'Ile de France si prodigarono tutti, dai passeggeri che rivestivano i nuovi ospiti al medico e agli infermieri. L'opera meritoria dell'intero equipaggio si rispecchiò nella onorificenza della legion d'onore con cui fu insignito il comandante Raul de Bodeon. Sull'Andrea Doria i morti furono complessivamente 46 tutti i passeggeri. Sulla Stockholm invece perirono 5 marinai che alloggiavano a prua. I feriti più gravi trasportati sulla nave svedese furono prelevati non senza difficoltà con gli elicotteri della Guardia Costiera americana. Alcuni feriti vennero ricoverati nell'ospedale della vicina isola di Nantucket. I più gravi furono trasportati a Boston. Due di essi morirono nei giorni successivi. Gli altri feriti vennero sbarcati a New York. A Boston morì Norma Di Sandro, tre anni. Durante la fase del salvataggio i genitori in pre dall'ansia la lanciarono su una scialuppa dall'alto dell'Andrea Doria. Sperando che qualcuno la afferrasse. Purtroppo invece la piccola batte il capo sul bordo della lancia ed entrò subito in coma senza più risvegliarsi. And now reporting from New York, here is Edward P. Morgan. Good evening. This is the shape of the news. The daughter of this reporter, Linda Morgan, accounted for one of the incidents of the tragedy which some would classify as a miracle. Sleeping in a stateroom on the starboard side of the Andrea Doria. A stateroom which bore the full brunt of the Stockholm crash. She was officially reported last night as killed. Instead she was catapulted apparently onto the bow of the Stockholm where a crewman found her alive in the wreckage. Linda Morgan fu soprannominata la ragazza miracolata. Riportò soltanto la frattura di un braccio. Morirono invece la sorellina Joan e il patrigno Camille Chanfarra, anche egli giornalista. La fortuna di Linda coinvolse il suo salvatore, il marinaio spagnolo della Stockholm, Bernabè Polanco Garcia. Era salito sul ponte in pre dal mal di mare. La collisione uccise tutti i suoi compagni di cabina. Eccolo in ospedale con la ragazza e suo padre, il giornalista della ABC Edward Morgan. Proprio a bordo delle navi soccorritrici cominciò l'atto di accusa contro l'equipaggio del Doria. Ci fu chi raccolse firme fra i sopravvissuti. Pochi giorni dopo però, sul progresso italo-americano stampato a New York, alcuni sopravvissuti smascherarono i responsabili. Raccontarono di aver firmato una petizione in lingua inglese convinti di elogiare i marinai delle navi soccorritrici. Il comandante Calamai venne persino accusato di non aver dato l'ordine di abbandonare la nave. Come faccio a dare l'abbandono a una nave su una nave sovraccarica di passeggeri con 1.706 persone? Eravamo a bordo con metà lancia e sole. Non ho mai pensato che era colpa della Andrea Doria. Fino a quando arriverò io lassù. Non credo. No, no, hanno fatto del tutto possibile. Marinaio che aveva l'altro giorno quel bambino in mano. La prima difesa appassionata a New York è dell'incaricato d'affari Egidio Ortona. Sul comandante Calamai e sull'Andrea Doria si addensò una cappa sempre più soffocante di accuse e di sospetti. Mentre gli ufficiali della Stockholm subito reimbarcati facevano carriera, quelli italiani vennero tenuti a lungo e inspiegabilmente a terra. Mentre gli italiani a New York nella cattedrale di St. Patrick piangevano i morti, gli svedesi organizzavano conferenze stampa. Una campagna di propaganda facilitata dall'ottimo inglese degli ufficiali della Stockholm. Eleganti nelle loro divise contrapposte agli abiti rimediati dagli ufficiali italiani che avevano perso tutto nell'affondamento. Il comandante Nordenson prese il comando della nuova ammiraglia svedese, la Gripsholm, costruita proprio negli stessi cantieri dell'Andrea Doria. Quando seppero che Nordenson era arrivato a Genova per assumerne il comando, i portuali scesero in sciopero e la nave non gli fu consegnata. La compagnia dovette inviare un altro comandante a ritirarla. Anche l'ufficiale Carstens fu promosso e imbarcato sulla Gripsholm. Scalò poi le posizioni della compagnia sino a diventarne vicepresidente. Mentre gli altri facevano carriera, il comandante Calamai, privo di comando, si macerava in silenzio. Aveva cominciato a spegnersi quella notte di 50 anni fa, quando era rimasto sulla nave prossima da affondare. Andate, aveva detto ai suoi ufficiali, vi raggiungo poi. Ma quelli avevano fatto l'atto di risalire a bordo, convincendolo così a scendere sull'ultima scialuppa. Solo a quel punto il secondo ufficiale Badano comprese il senso di quanto Calamai gli aveva raccomandato poco prima. Il grosso dei passeggeri era già stato trasferito, il leader Franz lì vicino, e lui mi si avvicina sul ponte, sulla Letta, e mi dice Guardi, lei andrà a Genova e se va dalle mie figlie, dalla mia famiglia, gli dica che io ho fatto tutto quello che dovevo fare e ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Io l'ho un po' sdrammatizzata la cosa, gli ho detto, ma comandante, guardi, se ci vado a Genova ci viene anche lei, lì c'è l'Ide France, lui si è considerato un sacrificato. Bell'affare avete combinato. Quando giunse a New York Calamai si sentì apostrofare così da un rappresentante della propria compagnia. L'invidia inespressa nei suoi confronti aveva finalmente trovato un appiglio. Risaliva ai tempi della nascita della Italia di navigazione, sorta dalla fusione di tre compagnie, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale Italiana, e Kosulich, con le loro navi Conte Biancamano, Conte di Savoia, Rex, Saturnia e Vulcania. Calamai faceva parte del gruppo di giovani e brillanti ufficiali provenienti dalla Lloyd Sabaudo, oggetto di gelosia da parte degli altri colleghi più anziani e tradizionalisti. Dalla legittima gelosia al risentimento, il cambiamento si verificò quando a Calamai fu affidato il comando della nuova ammiraglia della flotta, l'Andrea Doria. Si sentivano fuori del loro ambiente perché erano in New York, qualcuno non parlavano inglese, avevano un avvocato americano che non parlava italiano e qualcuno ha assegnato un interprete svedese per gli italiani. Ho sentito dire che non traduceva sempre bene, mi sembra che questo può anche nascondere la verità. A differenza di quello italiano, inspiegabilmente remissivo, l'addetto svedese alle pubbliche relazioni era molto attivo. I svedesi hanno chiesto a un giornalista americano, Elvin Muskao, di scrivere un libro, mentre che lui era in Svezia. Questo libro è diventato molto sfavorevole verso gli italiani. I svedesi erano molto sensibili, mentre che gli italiani erano anche codardi. Elvin Muskao è uno dei tanti che hanno scritto sull'Andrea Doria, ma è il più subdolo. Come posso dire, hanno blandito il signore Elvin Muskao, offrendogli il viaggio sullo Stockholm per ricarsi in Svezia. L'hanno ospitato gratuitamente. Ci mancava che gli offrissero le odalische. L'inchiesta fu sospesa per motivi economici, un accordo tra le compagnie di assicurazione e le compagnie di navigazione. Nel complesso, alla Compagnia Italia andò abbastanza bene, perché riuscì a ottenere 19 milioni di dollari a fronte dei 25 milioni di dollari, che era la stima del valore della nave e del suo carico. Insomma, chi fu il responsabile della collisione? La causa principale della collisione fu Carstens, interpretò male il radar e virò a destra quando non avrebbe dovuto. No, impossibile! Questo è il disegno presentato all'inchiesta dagli avvocati della compagnia svedese. È la ricostruzione del sinistro secondo l'equipaggio della Stockholm, con l'Andrea Doria a sinistra e non a destra della nave svedese. In tribunale Carstens ha dovuto riconoscere quanto emerso dai tracciati di lotta della sua nave, che il suo timoniere Pedder Larsen, cioè distratto ed impreciso, procedeva a zigzag fino a 7 gradi a destra e a sinistra dalla sua ruta. Se Carstens non ha mentito, ecco allora che cosa può essere accaduto. Quando il timoniere accostava troppo a destra, l'Andrea Doria risultava trovarsi momentaneamente a sinistra. No, lo posso garantire. Ha fatto un cerchio enorme, noi eravamo fermi, ma lei andava a 28 nodi. Non abbiamo causato noi la collisione, è stata lei a venirci addosso. Ma anche ammettendo, come sostiene Carstens, che la Doria fece da sinistra un enorme cerchio, avrebbe dovuto accelerare a una velocità impossibile per trovarsi sul punto dell'impatto tre minuti dopo. E poi è incompatibile con la realtà anche la posizione delle due nave. La Stockholm speronò l'Andrea Doria con la prua, non con la fiancata. Alla luce della tecnologia dell'era dei computer, l'esperimento tentato all'epoca nella vasca navale di Roma può far sorridere. Eppure dimostra come non ci si fosse rassegnati a quell'accordo fra assicuratori che lasciava l'equipaggio del Doria e con esso tutta la tradizione marinara italiana avvolti in una vischiosa cappa di inefficienza e di codardie. La versione svedese era tecnicamente insostenibile. Già negli anni 70 lo aveva dimostrato un tecnico navale americano, il professor Carroters, e più recentemente lo ha dimostrato il gruppo di lavoro di Genova coordinato dall'ingegner Scotto. Carroters spiega che con quell'angolazione e in quel preciso punto della collisione l'Andrea Doria non poteva arrivare partendo da sinistra e lo dimostra ricorrendo alla formula di Brown che spiega qual è il raggio di virata di una nave in base alla sua lunghezza al galleggiamento. Per arrivare in quel punto avrebbe dovuto compiere una S stranissima, pazzesca, alla velocità di un aereo supersonico. Non capisco questa formula di Brown perché non ho mai sentito niente di più stupido. Prova che l'Andrea Doria non avrebbe potuto trovarsi nel punto che indicava Carstens. Il solo modo era di fare una curva S e aumentare la velocità da 22 a 2500 nodi. È una barzelletta. Nel computer si può inserire qualunque dato per ottenere il risultato desiderato. Mudd non ha chiesto nessuna informazione né a me né agli altri svedesi. Non capisco dove ha preso i suoi dati. Beh, ho preso i grafici dei registratori di rotta delle due navi e le ho riposizionate. Credo che Carstens stia cercando di razionalizzare il fatto che guardava la scala radar sbagliata. Meno di due mesi dopo il naufragio qui nel tribunale distrittuale di New York a Forest Square ebbe inizio l'inchiesta a preliminare per l'accertamento delle responsabilità. Gli svedesi avevano scelto di addire la giustizia americana e gli italiani non si erano opposti. Nell'aula 1506 del tribunale i marinai della Stockholm testimoniarono di un violento alterco fra l'ufficiale Carstens e il comandante Nordenson arrivato in plancia dopo la collisione. Sostennero però di non aver compreso nulla perché i due parlavano in inglese. Abbiamo chiesto noi al secondo ufficiale Inestrom che lingua si parlasse fra di loro sulla Stockholm. Ovvio alla sua risposta All'inchiesta preliminare di New York il suo timoniere testimoniò che subito dopo la collisione lei prese il berretto lo scagliò in terra si mise le mani nei capelli e disse come ho potuto virare in quel modo. Si sentiva colpevole? Dopo la collisione avevo altro da fare preoccuparmi che non stessimo affondando non avevo certo il tempo di buttare in giro il mio berretto stupidaggini. Ed invece è proprio vero siamo venuti in possesso della trascrizione del controinterrogatorio del timoniere Peter Larshan all'inchiesta di New York. Domanda l'avvocato della società Italia Underwood che disse l'ufficiale quando venne in timoniera dopo la collisione? Risponde Larshan disse come diavolo ho potuto farlo? Domanda l'avvocato disse che cosa abbiamo colpito? Risponde il timoniere disse come diavolo ho potuto farlo di virare in quel modo? E l'avvocato non ho altre domande. Pierrette Simpson scampò al naufragio emigrava con i nonni da un paesino del Piemonte ne ha scritto un libro che è più di una storia di sopravvissuti. Durante le mie ricerche ho capito com'è stata questa collisione e ho pensato che era il mio dovere di spiegarlo al pubblico. oggi a tanti anni di distanza il traffico navale di New York scorre indifferente ma non lo sono gli americani di fronte al ricordo di una tragedia che scandì la cronaca di quei giorni lontani. Basti osservare l'interesse col quale sono accorsi a una recente mostra di reperti dell'Andrea Doria nel museo di South Street. Gli americani sono stati i primi a conoscere la verità sul naufragio anche perché nel 1980 il New York Times fu l'unico giornale a riferire che la commissione d'inchiesta della nostra marina mercantile guidata dall'ammiraglio Bigliardi aveva individuato in Carstens e Johansson il responsabile della colligione. La stampa italiana ignorò la notizia la verità restava in fondo al mare sepolta con l'Andrea Doria. La lettera è datata 10 di marzo del 72 ultima con le parole resta assurda Captain Calamay there are many of us who would be more than willing to serve under your command in any time. John Carothers il primo a scagionarlo scrisse a Calamay che molti ufficiali americani sarebbero stati fieri di averlo per comandante. Unitamente alla lettera la foto di Calamay fa oggi bella mostra nell'accademia di marina di Long Island. La lettera però giunse troppo tardi. Lui non l'ha nemmeno aperta le figlie l'hanno trovata sulla schivania che è morto dicendo ma i passeggeri sono tutti salvi nel delirio. Lo tengo nel mio cuore perché so che fece il possibile per aiutare tutti. fra tante vittime c'è stato anche il comandante Calamay perché lui è diventato il capro espiatorio. Spero che con il mio libro tutti gli italiani che conoscono questo evento dell'Andrea Doria si sentano riabilitati. Ecco adesso la radiocronaca di Erberto Landi registrata al molo alle 9.30 ora americana di questa mattina cioè all'ora in cui sarebbe dovuto arrivare in porto l'Andrea Doria sono le 9.30 del mattino del 26 di luglio ora di New York e in questo momento avrebbe dovuto attracciare al molo numero 84 dove ci troviamo la nave Andrea Doria proveniente da l'Italia Andrea Doria non si apprezza non si apprezzerà e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa che è diffusa proprio da questi minuti tra gli agenti in cui la confusione e la preoccupazione sono irritanti e noi cerchiamo di avvicinare qualcuno delle persone che sono qui che sono venute in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte signora lei come si chiama? Lucia Vuote lei chi aspettava qui? Mio marito e quando è venuta lei qui? Un'ora e un'ora e un'ora lei ha andato appunto già a casa è vero che era venuta tutta la notte e poi è venuta qui subito al fil per cercare di avere notizie che cosa le hanno detto che è verata stasera? Adesso dovrei venire stasera alle 3 piccole 3 piccole 2 piccole 6 non si sa lei è ancora qui signora con una bella bambina in braccio signora lei il suo nome? Alfredina Romeo lei si è venuta a scettare stamattina io sarebbe anche mia e quando ha saputo lei che si è venuta? questo è l'anno nascosta però perché già si è venuta di cuore appunto lei l'ha saputo qui quando è venuta al moro? no no 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 6 7 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 Lei come si chiama? Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle sette e mezza. Lei non sapeva niente? Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? E chi aspettava? Mio cognato, come si chiama? E quando è venuta qui e poi si è accattuto, come le hanno dato la notizia? Ho saputo dire che è stato aperto sulla nave e non sapevo cosa era successo. E allora continuo a rimanere qui. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi è speciale? Mio cognato e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8? Anche lei non sapeva niente? No, non ha sentito la radio, non ha visto i giornali. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Van Lea Loria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, come ve le hanno date? Per telefono, per tutto. Il personale è venuto giù a informarvi? Quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo, aspettiamo. Magari fino a questa sera aspettate? Aspettiamo, aspettiamo. Non sappiamo a che ora. Chi c'è con lei? È venuto a questa sera? Se il mio cognato, aspettiamo. Lo darà a fare. Sono la prima. Sono la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di mio cognato? Dove? Chiamala lei. L'era? Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? 5. Alle 6, non sappiamo. E poi cosa fa? Stati fino alle 6, io fai tanto. Si aspetterebbe magari fino a domani mattina. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine, decinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse. Non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio, della sera, le navi di soccorso, la Hill de France, tutte le altre navi porteranno gli superstiti che sono stati trattati. Qui vi parliamo dal PIR 84 alle 9.30 prima passata del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorre questa notte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.